ciao a tutti ragazzi in questa puntata andiamo a parlare di una cantante britannica molto famosa ormai da più di dieci anni e questa cantante è appunto adell e la cantante britannica appunto con questo singolo che si intitolava hello che è uscito in tutte le radio il 23 ottobre 2015 la canzone a livello di con di contesto di appunto testo sempre solita un po malinconica rotture rotture di cuori eccetera quindi però musicalmente secondo me è perfetta perché inizia molto piano la canzone lentamente e pianoforte e poi nella seconda parte si scatena con la sua voce spettacolare e poi ci sono anche delle sfumature soul e core gospel quindi musicalmente secondo me è perfetta a parte comunque il testo che è sempre un po drammatico a livello sentimentale diciamo infatti lei dice che questo è molto importante è stato molto importante questo singolo perché è la prima volta che scrivo un testo così lento infatti è una ballata romantica dal sound avvolgente e malinconico con un sottofondo di pianoforte e un'atmosfera pop con sfumature soul e core gospel infatti è proprio così quindi andiamo ad analizzare il testo che appunto sintetica si intitola hello che vuol dire ciao inizia dicendo hello appunto is me quindi ciao sono io vorrebbe dire no questo sono io i was wondering if after all these years you had like to meet quindi tu vuol dire chiedersi domandarsi quindi io mi stavo chiedendo perché was è passato se dopo tutte dopo tutti questi anni ti piacerebbe incontrare io ho messo incontrare perché non è specificato incontrarti secondo me cioè una cosa ipotetica ti piacerebbe incontrare non una persona in particolare ma all'infinito no quindi incontrare ipoteticamente to go over everything allora to go over vuol dire essere accolto esaminare attentamente ripetere ripassare considerare quindi eh se ti piacerebbe eh appunto rincontrare per per esaminare tutto quanto tutto quello che magari è successo quando non ci vedevamo they say that time supposed to heal eh loro loro dicono 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 che il eh il tempo ehm supposto ah to suppose vuol dire supporre presumere ipotizzare to heal vuol dire eh guarire quindi in teoria lei sta dicendo che la traduzione dovrebbe essere loro dicono che il tempo dovrebbe guarire insomma quella diciamo il il concept no but I ain't done much healing eh ma negazione io non ho fatto eh non ho fatto molto per guarire io ho tradotto così quindi loro dicono che il tempo dovrebbe guarire ma io non ho fatto molto per guarire quindi ciao puoi sentirmi I'm in California dreaming about who we used to be quindi io sono in California eh sognando eh chi eravamo soliti essere perché to use to be vuol dire ehm eh fare qualcosa abitudinariamente quindi chi eravamo noi abitudinariamente quindi di solito when we were younger and free quindi quando facevamo noi delle cose insieme di solito quando noi eravamo più giovani e liberi I forgotten how it felt before the world fell at our feet eh io ho ho dimenticato come ci sentiva prima eh che il mondo cadesse ai nostri piedi there's such a difference between us c'è una così such vuol dire quando c'è such è una cosa eh che risalta risaltante quindi una così tanta differenza tra noi due quindi c'era proprio tra di noi c'era un mare per usare una metafora hello eh and a million eh miles e quindi appunto un milione eh di miglia milioni di miglia hello from the other side quindi ciao dall'altro lato quindi dall'altro lato di di questi miglia dall'altro lato di del mare eh per quantificare I must have called a thousand times ehm io eh eh devo eh eh devo aver chiamato mille volte ah ma perché must è è molto imperativo molto più di have to quindi io devo have called aver chiamato eh migliaia di volte dall'altra parte to tell you I'm sorry for everything that I've done per dirti per dirti a te scusa per tutte le cose che io ho fatto quindi penso cose negative but when I call you never seem to be home ma quando io chiamo eh tu sembra che non non sei mai a casa hello from the outside quindi ciao da qui fuori at least I can say that I've tried quindi almeno posso dire che io ci ho provato appunto a risanare questa relazione to tell you I'm sorry for breaking your heart eh di di almeno eh scusa per averti rotto il cuore but it don't matter it clearly doesn't tear you apart anymore ma non importa questo è chiaramente a to tear apart vuol dire strappare lacerare separare quindi io non importa che tu che non risponda è stata è chiaramente ehm è chiaramente ehm come si può dire ehm questo 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 è chiaramente non ti non ti lacerà eh non ti lacerà più cioè eh chiaramente questo non non ti lacerà mai più perché non ti strappa eh non ti strappa mai più eh hello how are you quindi ciao come stai it's so typical of me to talk about myself I'm sorry quindi è così tipico di me parlare di me stessa eh ma chiedo scusa I hope that you are well io spero che tu stia bene eh did you ever make it out of that town where nothing have happened quindi è una domanda I I I allora to make uh to make out vuol dire scorgere quindi qua bisogna un po' interpretare e io ho tradotto così ma hai mai scorto quindi hai mai visto qualcosa al di fuori di questa città in cui non succede mai niente no quindi è una domanda che si pone it's not secret that the both of us are running out of time eh non è un segreto che eh entrambi both significa entrambi eh running out of out vuol dire esaurire finire rimanere essere rimanere sprovvisto quindi non è un segreto che entrambi eh eh entrambi a entrambi sta scadendo il tempo quindi siamo proprio eh alla alla fine di questo di questo amore perché è proprio strappato quindi siamo io da una parte e tu dall'altra quindi il testo appunto a volte ha bisogno di interpretazioni perché comunque la c'è le i testi cantati sono diversi dai testi scritti no quindi vanno anche interpretati a seconda appunto del della traduzione e quindi il momento è tutto con Adel eh vi invito appunto ad ascoltare la canzone con la traduzione in modo che si possa imparare anche soltanto una parola una parola alla volta per imparare qualche qualche parola di inglese no che ci aiuta comunque a capire di più il mondo eh quindi vi invito ad ascoltarla bene soprattutto a livello strumentale nella seconda parte col gospel se piace molto molto fine gospel e quindi con hello di Adel è tutto per il momento ragazzi ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti scusate c'è un problema tecnico quindi con hello di Adel è tutto alla prossima puntata ciao ciao